Benvenuti, benvenuti a questa nostra diretta di oggi dedicata al caso Charlie Gard. Grazie davvero per la partecipazione straordinaria, devo dire, che c'è stata ieri al rientro dalla mia sospensione su Facebook, un ascolto incredibile, oltre 20.000 persone per la diretta, davvero tanto, qualcosa che mi ha scaldato il cuore, per certi versi impensabile come risultato, 1.100 commenti, 950 mi piace, 495 condivisioni, insomma, dei numeri che fanno pensare che forse il tempo che spendiamo insieme ha costruito in qualche modo una dimensione comunitaria. Ecco, siamo una comunità e questo è davvero importante. Cerchiamo anche stasera, che stasera parleremo di qualcosa di davvero rilevante, il caso Charlie Gard sarà l'argomento della diretta di questa sera, cerchiamo di essere il più possibile, non solo condividete, se potete, questa diretta sul vostro profilo, ma invitate i vostri amici a seguire la diretta, penso ci sia un bottone, diciamo, del sistema che permette di invitare i vostri amici a seguire la diretta che noi intitoliamo oggi l'Italia sedesta. È una diretta di belle notizie e per questi versi e di questi tempi dunque clamorosa, indubbiamente. Fatemi salutare un po' gli amici, c'è Mirko De Carli, c'è Stefano Arrighi, c'è Andrea Cavenaghi, Andrea Fratini, Giovanna Arminio, Sara Deodati, Sabino Sabini del gruppo Preghiera Popolo della Famiglia e Dio sa quanto è stata importante la preghiera in questa stagione, in questa vicenda, la vicenda Charlie Gard. C'è la bellissima Francesca Patuzzi che anche ieri era impegnata in una veglia di preghiera, c'è Mauro Turrini, Dariolo Terme, dove ci siamo appena insediati in Consiglio Comunale come Popolo della Famiglia, c'è Don Filippo Cotroneo, Marianna Puzzo, c'è G.B. Orsini, un abbraccio, un nostro caro sostenitore, Sara Tolassi, Rosa Grazia Pellegrino, Paolo Ruotolo, Lapongi, ecco il coordinamento ideoriale Popolo della Famiglia di Vò che non manca mai neanche di sera, Antonella Bagno, Giuseppe Fogone, la carissima Catiuscia Longobardi, Beatrice Nazarena Novelli, Gabriele Rossi, un abbraccio a Gabriele Rossi, sempre molto puntuto, Irene Stagliano, Lino De Angelis che mi chiedeva in privato come vedere la diretta ed ecco qua c'è arrivato, bene o male, sono contento, Giovanni Mazzotta, Pippo Invesi, clamoroso, diciamo, elemento portante del Popolo della Famiglia di Roma, è arrivata anche Francesca Centofanti, c'è Luca Di Tolve, mi fa molto piacere salutare Luca Di Tolve, coraggioso combattente per la verità, Daniela Grechi, Maria Chiara Nordio, Nicolò Marino, Carla Stefanini, Paola De Marchi, Prisca Vegna, allora vi chiedo davvero, ciascuno che può, se può e se vuole, non solo, saluto anche Giuseppe Focone che dice non mogliamo di un centimetro, non solo condivida la diretta su il proprio profilo Facebook, ma se può inviti i propri amici a seguire la diretta stessa tramite il bottone invita appunto a seguire la diretta. Grandissima Francesca Centofanti, bella Mario con quattro cuoricini, addirittura quattro, grazie davvero alla nostra cara Francesca, anche lei del coordinamento editoriale, c'è Paul Freeman che ha fatto un lavoro straordinario di traduzione dei dieci punti indicati dal cardinale Sgreccia oggi, che domani troverete anche sul quotidiano La Croce, per cui è necessario salvare Charlie. Quindi stiamo strutturando al di là della riflessione, della mobilitazione, della preghiera, anche una riflessione intellettuale che abbiamo fatto partire ieri con una serie di numeri, la diretta di ieri credo abbia avuto un particolare successo anche perché ha declinato una serie di numeri del problema che andava ponendosi, che oggi approfondiremo e domani sul quotidiano La Croce, per chi segue il nostro quotidiano, c'è la possibilità appunto di approfondire attraverso i dieci punti indicati dal cardinale Sgreccia in maniera estremamente precisa rispetto alle ragioni per cui bisogna salvare la vita di Charlie Gard. Saluto Giuliano Cuzzo, Davide Dallamarta, Paolo Ruotolo, siamo già oltre 340 connessioni istantanee, quindi vuol dire che probabilmente anche oggi riusciremo a parlare a decine di migliaia di persone, continuate se potete e se volete a invitare i vostri amici a seguire la diretta. Saluto Paola Belletti, una mamma che vive il problema della disabilità del proprio figlio, così come Paul Freeman, quindi le persone che stanno dentro questa comunità hanno anche la dimensione esperienziale per raccontare la forza, la vita, la capacità vivificatrice del figlio sofferente rispetto al contesto che invece vorrebbe costruire per queste persone, anche per i più deboli, anche per i bambini, sentenze di morte. Allora, l'Italia sedesta, davvero, l'Italia sedesta, tutti i giornali in tutto il mondo, potrei farvi una rassegna stampa infinita, riconoscono che il cambio di passo sulla vicenda Charlie Gard, quando ormai sembrava impossibile coltivare la speranza, ricordo che il 27 giugno c'è stata la sentenza della CEDU, della Corte Europea sui diritti umani, è dovuta alla mobilitazione dei cattolici italiani. È un dato di fatto riconosciuto ovunque, pensate, quando c'è stata la sentenza della CEDU, i giornali britannici l'hanno relegata in una breve, solo in Italia, non il 27, non il 28, non nelle giornate in cui c'era la notizia. Vi ricordate che noi, su Amici di Maria di Nolfi, la pagina che tengo aperta come pagina di riserva, quando mi imbavaglieranno un'altra volta su Facebook, e a cui vi chiedo sempre di fare un mi piace, perché se andate su quella pagina, quella è la nostra pagina di salvezza, quindi iscrivetevi a quella comunità per quando ci imbavaglieranno. Bene, lì scrivemmo che Repubblica non aveva dato la notizia della CEDU. Se voi prendete Repubblica del 28 di giugno, scoprirete che non c'è la notizia. Quindi c'era stato un occultamento, assolutamente un occultamento della notizia da parte dei media mainstream, anche sui telegiornali, avete visto che non aprivano su questo. Una grandissima mobilitazione dal basso, c'è chi cita le telefonate all'ambasciata, ma una davvero clamorosa mobilitazione dal basso ha ribaltato le condizioni. Come dice Mirko De Carli, un popolo può fare la storia se si mobilita organizzandosi. Gasperina ha analizzato, dice, i laici cattolici hanno fatto questo miracolo, in Lucia Rispoli ci abbiamo contattato tutti, anche il Vaticano. Davvero l'Italia sedesta, cioè quello che abbiamo costruito e fatto, nella dimensione di una mobilitazione che sembrava disperata, è diventata oggi uno scontro evidente tra due gruppi. C'è da una parte, teniamolo presente lo scontro, dei medici che hanno deciso di staccare la spina, cioè uccidere per soffocamento Charlie che è legato a una macchina che lo fa respirare, e poi a seguito della decisione dei medici contestata da chi ha potestà genitoriale su Charlie, cioè i due genitori di Charlie, quattro sentenze, non una, quattro sentenze, quattro, dell'Alta Corte Britannica, della Corte d'Appello Britannica, della Corte Suprema Britannica e poi della Corte Europea sui diritti umani, tutte omogenee per decretare la morte di Charlie. Ora, di fronte a questo, decisione dei medici e quattro sentenze omogenee, un popolo, che non è neanche il popolo, devo dire, dei cattolici inglesi, perché la conferenza episcopale britannica fece una nota anche piuttosto ambigua rispetto alla vicenda Charlie, ma un popolo che è il popolo dei cattolici italiani, lo ripeto, l'Italia sedesta, come dice bene Paolo Ruotolo, abbiamo dato il nostro urlo a Charlie, ha costruito le condizioni per cui il mondo si risvegliasse. Il mondo. Vi prego, invitate i vostri amici a questa diretta, fate il condividi di questa diretta sulla vostra pagina, perché quello che state facendo è costruire le condizioni affinché il mondo guardi l'oscenità di quella decisione dei medici e di quelle sentenze per scegliere al posto della morte la vita. Lo avete fatto voi, lo avete fatto voi. Come dice Nicoletta Mantovanelli, gli italiani restano un grande popolo. Fabrizio Delepiane ringrazia Papa Francesco, ringrazia il Presidente Trump. Alberto Cerutti ci racconta che oggi è stato un'ora al telefono dell'ambasciata senza alcuna risposta, ma domani ricominciamo. Giuseppe Fugone dice le pecore che guidano i pastori. Ci hanno dato di fatto. Sicuramente le parole del Papa sono state determinanti. Ed è determinante il contatto che si è costruito a questo punto tra una autorità politica fondamentale, cioè l'amministrazione Trump. La notizia che volevo darvi stasera è che l'amministrazione Trump con i funzionari ministeriali, i funzionari dell'amministrazione, è in diretto contatto con la famiglia di Charlie Garda, con i genitori Charlie Garda, e in più anche un'istituzione ospedaliera fondamentale e meritoria a chi di noi non ha portato i propri figli al Bambin Gesù. Eccolo qua, un genitore che è andato più di una volta inevitabilmente al Bambin Gesù, con una figlia e anche con l'altra, sperimentando la clamorosa capacità di lavoro dell'equipe medica del Bambin Gesù anche in situazioni emergenziali per quanto mi riguarda. Ebbene, l'unione di questo, quindi una grande mobilitazione dal basso, una capacità di una parola forte finalmente del Papa, un'azione politica, perché quella della presidenza Trump è indubbiamente un'azione politica, e l'attività anche di un'istituzione ospedaliera come quella del Bambin Gesù. Bene, il combinato disposto, come dicono quelli che parlano bene di tutto questo, ha creato le condizioni di un'alternativa. Oggi c'è una parte, i medici che vogliono uccidere Charlie, ci sono quattro sentenze omogene di quattro tribunali diversi che vogliono uccidere Charlie, di contro c'è il Papa, c'è l'amministrazione Trump, c'è il Bambin Gesù e c'è il popolo italiano, la grandiosa speranza rappresentata dal popolo italiano. Io per anni ho scritto e detto che se tiene l'Italia sui principi non negoziabili possiamo sperare di arrivare prima o poi a un ribaltamento delle condizioni. Se crolla l'Italia, crolla il mondo. Non siamo stati noi, lo dice bene Francesca Patuzzi, stiamo vivendo un miracolo. Non sappiamo neanche se ci sarà il buon fine o la cattiva notizia alla fine di questo percorso. Ma certamente, dice bene Francesca Marzoli, abbiamo scatenato il paradiso. È una bellissima riflessione che fa Francesca. Se il popolo è unito la sua voce può arrivare in alto, dice Federico Pieroni. Roberto Mura dice grande, sono solo grosso e sono solo portavoce. Portavoce dell'ultimo baluardo, come dice Anna Russo e come dice Vittoria Polacci, il popolo italiano svegliato dal popolo della famiglia. Alessandro Cocco, popolo della famiglia Trieste, non a caso dice il piccolo Charlie ha mosso il mondo, ha svegliato un popolo ed è solo l'inizio. C'è Andrea Fratini che ci parla anche della geografia che fa vedere qual è il lavoro che stiamo facendo con Italia come resistenza. Marco Buono dice che stava per passare tutto in sordina. Francesca Immacollata Sciaqui dice ora serviamo noi italiani, noi andiamo con un legato pontificio a prenderci Charlie e a portarlo al bambino Gesù. Sarebbe bellissimo, sarebbe davvero bellissimo. Marilena Sciarrone dice al bambino Gesù miracoli documentabili. Nando ci scrive dal Belgio e dice che prega insieme a noi. Giovanni Battista scrive il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge, nessuno può essere intenzionalmente privato della vita. È scritto nella dichiarazione dei diritti dell'uomo. Saluto Rossanna Manfron, Rosa è l'onora degli esposti, Francesca Sciaqui sta mobilitando i colleghi sul lato vaticano, serve l'azione italiana. Allora sottolineiamo questo elemento, il vaticano ha dimostrato, ripeto, le parole del Papa, il documento di sgreccia fondamentale che trovate sulla croce, la disponibilità del bambino Gesù, la bellezza meravigliosa, dice Maria Pia Pettolino, di tutto questo mobilitarsi. Stefano Sigali dice la battaglia è appena iniziata. Allora, ora serve la Lorenzin, dice Francesca Immacolata Sciaqui. Questa diretta di oggi è per sensibilizzare il governo italiano, che ha fatto poco se non niente. Qualche parola di Renzi, generica di circostanza. Ora noi lo sottolineiamo e lo chiediamo con forza al ministro Lorenzin, si dia da fare in coordinamento con le autorità vaticane, andiamo a prendere Charlie e portiamolo al bambino Gesù. Questa è la... volevo dire una parola forte, diciamo così. Questo è l'urlo che esce da questa diretta. Cara Beatrice Lorenzin, c'è la disponibilità del Vaticano a farsi carico delle cure di Charlie. Ora serve l'attività diplomatica della Repubblica italiana. Come popolo della famiglia facemmo immediatamente un esposto chiedendo ad Alfano di convocare l'ambasciatore britannico, al presidente Mattarella, di scrivere alla regina Elisabetta. Ora l'Italia deve fare la sua parte. Deve fare la sua parte contro i trafficanti di morte. Costantino Montebove dice bene il popolo italiano non uccide i malati, specialmente i bambini. E allora questa è stata una nostra dichiarazione di molti giorni fa. Chiedere il coinvolgimento della Presidenza della Repubblica e del Ministero degli Esteri. Ora chiediamo che il Ministero della Salute si faccia carico con un legato diplomatico collegato all'azione della Santa Sede per portare in Italia Charlie Gard. Allora, cara Beatrice Lorenzin, noi ci conosciamo, tra l'altro siamo, insomma, non posso dire amici, ma ci siamo sentiti e visti molte volte. Cara Beatrice, ora è il momento da donna cattolica, quale ti professi, di fare un'azione davvero determinante. Uniamo la forza, la grandezza della nostra capacità di essere italiani e davvero facciamo vedere che l'Italia sedesta. Cari amici, fate un mi piace, un condividi, invitate più persone possibili a questa diretta. È arrivata anche Gianna Jessen. Salutiamo con un abbraccio enorme Gianna Jessen. Thank you Gianna for being here. Thank you for your prayers. Thank you. Italy is praying for Charlie God. We are going to rescue him. We are going to save him. Let the miracle happen. Yes, we want the miracle happen. Thank you Gianna Jessen. Grazie davvero a Gianna Jessen. È una diretta speciale, come capite, è una diretta particolare, un mi piace, un condividi, invitate direttamente i vostri amici a partecipare. Sabino Sabini scrive, sosteniamo con il gruppo preghiera queste nostre intenzioni. Facciamo sì, facciamo sì, amici miei, che tutto questo diventi qualcosa di concreto. Abbiamo adesso il mondo schierato a favore di Charlie. Fino a cinque giorni fa sembrava tutto impossibile. Ora dobbiamo costruire le condizioni affinché davvero si realizzi quello che si può concretamente fare per salvare Gianna Jessen. Gli italiani sono altra cosa, lo ripeto, dalla associazione Luca Coscioni, che ha avuto il coraggio di scrivere che i genitori di Charlie, l'ha scritto Maria Antonietta Farina Coscioni, indovinate dove, su avvenire, amici miei, su avvenire, che i genitori di Charlie stanno compiendo un atto di egoismo. Io sono stupefatto, era su avvenire ieri, l'avvenire di domenica, cioè quello che troviamo in parrocchia a messa, aveva una paginata dedicata a Maria Antonietta Farina Coscioni che diceva che quello di Charlie Gard, dei genitori di Charlie Gard, era un atto di egoismo. E devo leggere, il direttore di avvenire che mette nella titolazione, definisce questa lettera di Maria Antonietta Farina Coscioni, a cui dedica tutta la pagina 2 di avvenire una pensosa lettera della Presidente dell'Istituto Coscioni, chiama al dialogo, che non è mai inutile e di troppo. Pensosa lettera. Dentro scrive, pensoso e appassionato intervento che chiama al dialogo. Allora io voglio dirlo con chiarezza, lo voglio dire con chiarezza perché Marco Tarquinio si è trovato in fuorigioco quando ha scritto questa cosa, no? È uscito domenica, è uscito ieri e il Papa domenica stessa ha cambiato completamente le carte in tavola. Con i fautori della cultura della morte non si dialoga. Con chi vuole uccidere Charlie Gard non si dialoga. Con chi dice che quello dei genitori di Charlie Gard è un atto di egoismo non si dialoga. Con Costoro si combatte. Non si dà una pagina di avvenire intera dell'edizione domenicale per far dire a Maria Antonietta Farina Coscioni che i genitori di Charlie compiono un atto di egoismo. Mi dispiace, non si fa. Con loro non si dialoga Marco Tarquinio. Non è un ponte, non è un dialogo possibile. Sono portatori di una cultura di morte che va semplicemente sconfitta. E va sconfitta con la mobilitazione del popolo della vita. Quindi, caro Marco Tarquinio, tu per un anno e mezzo sei riuscito a censurare completamente l'attività del popolo della famiglia. Completamente, completamente. Neanche una riga, mai. Possiamo bene il 15%, leggere 17 persone in tutta Italia, prendere più voti di Forza Italia a Verona con il grandissimo Filippo Grigolin, 15% con De Carli, 11% in Sicilia. Niente. Neanche una riga. E dobbiamo dare una pagina a chi dice che i genitori di Charlie Gard stanno compiendo un atto di egoismo. E dire che questo è un pensoso e appassionato intervento che invita al dialogo sull'edizione domenicale di Avvenire. Vorrei dire una cattiveria avendoci lavorato ad Avvenire. L'unica che viene letta, che ha dei lettori, diciamo così. Una, tutta pagina due, neanche la pagina interna. Uno apre, avvenire pagina due, Maria Antonietta Farina Coscioni. Allora no, no. Facciamolo, diciamolo con chiarezza. C'è una risposta da dare? C'è una risposta da dare immediata? La risposta da dare immediata è la richiesta di collaborazione del governo italiano alle istanze vaticane favorevoli alla possibilità che Charlie Gard venga in Italia all'ospedale bambino Gesù per essere curato, accudito e possibilmente salvato. È a ragione Bella Lavanda. Con Satana non si discute. È così. Giovanni Fiori, nessun profeta è mai riconosciuto in patria. Magari è così. E allora davvero facciamo tutto quello che possiamo fare per far sì che l'elemento fondamentale dell'unione efficace tra preghiera, mobilitazione, organizzazione, chiamiamola di natura spirituale, motivazione intellettuale e capacità organizzativa politico-organizzativa in termini concreti, conduca a soluzione la questione. Questo è il tema fondamentale. Noi vogliamo portare a soluzione miracolosa, miracolosa, che indubbiamente noi non possiamo fare nulla. Soluzione miracolosa questa vicenda. Stefano Sigali dice ti vedo che vorresti esplodere. Mi sto tenendo. Come capite mi sto tenendo. Mi sto tenendo perché adesso davvero il risultato è a portata di mano. Il risultato è a portata di mano. Non voglio credere che quei medici davanti a tutto questo riusciranno a staccare la spina a Charlie. Se lo dicessero sarebbe di una gravità immensa e già ora possiamo dire che verrebbero marchiati davvero da un marchio di infamia. Davvero da un marchio di infamia. Fatemi salutare Massimiliano Amato, così attraverso lui saluto anche il segretario nazionale del popolo della famiglia Gianfranco Amato. C'è chi scrive che adalatri sono riusciti a chiudere i centri abortivi. Saluto Francesco Cassini, saluto Bobac Falamachi, Ivana Pecora, Claudia Scimain Brignoli, Federico Pironi. Andiamo sulla pagina della Lorenzina Manetta. Saluto Angela Ciconte, sta lavorando molto anche sul radicamento territoriale di tesseramento del popolo della famiglia. Bravissima Angela. Saluto Bartolomeo Tarangelo, Silvia Protti, Saluto Alessandra Tumino, Francesca Bruschi. Ora che l'Italia si è desta e ha fatto svegliare il mondo, dobbiamo convincere il governo italiano, Francesca dice la Lorenzin, io dico cerchiamo di agire su più piani, cerchiamo di far agire il Quirinale, cerchiamo di far agire il Ministero degli Esteri e cerchiamo di far agire sicuramente il Ministero della Sanità. Giuseppe Brienza scrive l'email segreteriaministrochiocciolasanita.it, ripeto segreteriaministrochiocciolasanita.it. Saluto anche Costanza Miriano che è arrivata in diretta, Gianna Gessa, Costanza Miriano, Giulia Conocuzzo, oggi siamo in tantissimi tanti amici e è un rave party per noi diciamo questa diretta. Facciamo sì che scrivendo a segreteriaministrochiocciolasanita.it la Lorenzin insieme, lo ripeto, alla Farnesina e al Quirinale possano intervenire per far sì che insieme al legato diplomatico pontificio si possa ottenere il risultato straordinario di far arrivare Charlie in Italia. L'Italia se desta, l'Italia ora deve costruire le condizioni tecnico-organizzative perché le condizioni politiche si sono create per far arrivare Charlie all'ospedale, bambino Gesù, dove noi genitori, in particolare noi genitori romani, abbiamo visto materialmente con i nostri occhi la sofferenza dei piccoli, abbiamo visto dei grandissimi medici agire e abbiamo visto anche dei miracoli prodursi. Io personalmente con i miei occhi, lo sa la mia figlia più grande, lo sa anche la mia figlia più piccola, le nottate passate al bambino Gesù, in alcuni casi anche con grande rischio, ma ci sono le condizioni per ottenere questo risultato. L'Italia se desta, l'Italia deve riuscire a costruire le condizioni per portare Charlie Gard all'ospedale bambino Gesù. Federico Pironi parla di un family day online oggi, siamo davvero molti, vi chiedo davvero di condividere questa diretta sulla vostra pagina, di fare un mi piace alla diretta, ma anche e soprattutto di invitare i vostri amici a seguirla perché quello che stiamo dicendo, credo, abbia davvero le condizioni per essere realizzato. E sarebbe bellissimo conoscere, c'è Gianna Gessen, c'è una mobilitazione internazionale, c'è chi mi dice che potrebbe arrivare a breve anche una mobilitazione da parte della Russia. Vittoria Polacci dice che la diretta si è bloccata, io la vedo ancora fluida, quindi vi chiedo se mi date segnale che la diretta sta ancora marciando in maniera fluida. Credo di sì. Invitate gli amici a partecipare alla diretta, direttamente, invita per far sì che più persone possibili scrivano a segreteria ministro chiocciolasanita.it per sollecitare l'esecutivo italiano a trovare di concerto con la Santa Sede una capacità mobilitativa per portare organizzativamente Charlie in Italia. È un obiettivo concreto che può essere sicuramente raggiunto. Io vedo che ancora scorre liscia la diretta, non so se qualcuno mi sta dicendo che si blocca, ma forse se chiudete la diretta e la fate ripartire, ecco, come dice Alessandra Solesio, è perfetta. Anzi, la conferma mi arriva da Costanza Miriano che dice che è fluida. Bene, quindi possiamo continuare ad andare su questo fronte. Vi ricordo peraltro che il contatto politico tra l'amministrazione Trump e la famiglia Gard è diretto. Quindi non c'è stato solo un tweet direttamente del presidente Trump a sostegno della famiglia Gard, in cui si è definito delighted, cioè assolutamente disponibile a voler dare una mano alla famiglia Gard. Ma c'è anche un contatto che l'amministrazione Trump sta tenendo direttamente con la famiglia di Charlie Gard. E questa informazione ci è fornita direttamente dalla BBC, quindi vuol dire che i media britannici anche stanno monitorando questa mobilitazione internazionale. saluto Emiliano Fumaneri che è appena arrivato, con Caterina, con Isabella Dejana, Roberto Mura dice che siamo un popolo ora più che mai, Lucia Ciccotti dice scrivi dopo il link dove scrivere. Ogni tanto si inceppa. Allora, l'email, non il link, è segreteriaministrochiocciolasanita.it ripeto, segreteriamministrochiocciolasanita.it. Ma la mobilitazione deve essere fatta, a mio avviso, questa è una proposta in particolare di Francesco Asciacui, ma la mobilitazione deve essere fatta con il governo italiano, con la Farnesina, dove ricordiamo che Angelino Alfano, che magari una volta tanto si può ricordare di diventare determinante, e anche con la Presidenza della Repubblica, il Quirinale si è già dimostrato importante portatore di segnali da questo punto di vista. Gianna Jessen scrive, sometimes to save a life we must be involved in politics, because politicians are often making the decisions for life and death. Cosa dice? Per salvare la vita dobbiamo essere coinvolti nella politica, dice Gianna Jessen. E Dio sa Gianna se qui in Italia tutti i giorni ripeto questo concetto. e come dice bene Alessandro Cocco, il pdf di Trieste, ha ragione Gianna, è proprio così. Dear Gianna, you are absolutely right, absolutely right. Secondo Alex Zino ad ascoltare questa diretta c'è pure Donald Trump, adesso non esageriamo insomma. Diamoci davvero però da fare, è arrivata anche Emanuela Ponti, altra nostra donna fondamentale e coraggiosa del popolo e famiglia, candidata a sindaco a Monza. Barbara Plutignani ha riscritto la nostra email segnalata a segreteria ministro chiocciolasanita.it. Dear Gianna, you are right, scrive Giovanni Battista Gianna Jessen che sorride in questa diretta insieme a noi. Saluto Laura Piovan, Victor Bruno. Laura Piovan ci scrive dall'Olanda, altro territorio purtroppo di frontiera negativa da punto di vista dell'eutanasia. C'è Stefano Bataloni, altra persona sicuramente sensibile a questo tema anche per le esperienze personali. C'è Emanuele Lobue, un abbraccio al carissimo Emanuele, c'è Isabella Dejana, la Pongiluppi ha tirato fuori anche l'email del Ministero degli Esteri. Ricordiamoci però tutto questo. Noi, noi che siamo in questo momento coinvolti in questa diretta, proprio noi siamo determinanti per la riuscita di questa operazione. Quindi a Fabio Ceseri che scrive Forza Mario, Massimiano Amato che dice Ciao Mario siamo tantissimi, ricordo che siamo un popolo, siamo un popolo che sta dialogando con gli Stati Uniti, con il campione assoluto della battaglia pro-life negli Stati Uniti che si chiama Gianna Jessen che è qui. Siamo un popolo davvero distribuito ovunque a spiegare la speranza e a lottare per ciò che significa sperare in un miracolo quando invece la condanna a morte delle autorità, delle sentenze, delle giustizie, di umani che non capiscono che la cultura mortifera conduce alla fine dell'umanità a un muro da dover oltrepassare che è quella della nostra fede, della nostra capacità di combattere. Allora questo siamo noi, l'esercito della vita, scrive Giuseppe Arena. Paolo Quaranta si lamenta perché non lo saluto mai, saluto Paolo Quaranta, saluto, siete tantissimi, perdonatemi se non riesco a salutare tutti, ma ce la dobbiamo fare e oggi ci dobbiamo concentrare su questo obiettivo, mobilitarci, far sapere a tutti che siamo mobilitati, che siamo un popolo che davvero travalica gli oceani. Gianna knows that Italy stalked Trump on Twitter, dice Marco Buono. Però diciamoci la verità, non è che abbiamo convinto noi a Trump. Trump si è mobilitato perché ha visto una mobilitazione internazionale e diciamoci la verità, anche le parole fondamentali di Papa Francesco perché altrimenti non stiamo dicendo la verità. Papa Francesco ha mosso completamente questa partita ed è dunque decisivo che noi sappiamo che l'unione di tutto questo, la pressione nostra dal basso, la capacità di fare informazione e comunicazione pure con i nostri piccoli mezzi, comprese queste dirette, arriva fino ai piani più importanti, Papa Francesco ha mosso evidentemente le acque con i suoi due messaggi e da lì è partita una storia completamente nuova che il 27 di giugno sembrava impossibile anche solo pensare. Gianna Jessen, we love you, scrivono i nostri ascoltatori e sono sicuro che Gianna Jessen sarà felice di queste vostre attestazioni di affetto. Carmen Ricci dice che le varie istituzioni giuridiche che hanno sentenziato contro Charlie non potrebbero mettersi contro la venuta del bimbo in Italia, certo che possono mettersi contro, possono ammazzarlo anche fra qualche ora, può accadere ma oggi per loro è estremamente più difficile farlo, è estremamente più difficile farlo, questa è la grande novità. Paola Belletti dice per dimostrare che quella piccola vita silente non conta niente hanno ottenuto esattamente l'effetto opposto, Charlie Immobile muove il mondo e volete dirci che queste sono vite insignificanti? Paola Belletti si dimostra la grande autrice che è, la grande scrittrice, ormai la leggete dappertutto, i suoi libri, su Aleteia, sono lieto che abbia mosso i primi passi sul quotidiano La Croce e dimostra soprattutto da mamma l'esperienza che deriva da queste vicende e quelli che vogliono spiegarci che le vite dei nostri figli sono inutili perché magari sono vite sofferenti o anche la vita dei nostri padri, delle nostre madri, la vita di 4,1 milioni di disabili italiani che siccome non sono perfettamente coerenti con i modelli estetici sono inutili, beh la risposta più concreta è che quella vita, quella vita di un bambino immobile ha mosso il mondo, ha mosso il mondo perché si è percepito quello che forse ieri nella diretta abbiamo spiegato con una qualche chiarezza, che quella sentenza era drammaticamente innovativa e permetteva la soppressione di un sofferente contro la sua volontà, contro coloro che avevano potestà giuridica su di lui, cioè i genitori, creando un precedente assolutamente terrificante dal punto di vista giuridico e dunque umanamente proprio l'umanità si è ribellata, l'umanità ha fatto quello che doveva fare, ha sviluppato anticorpi, grazie Paola Belletti, senza la croce non andava a nessuna parte, grazie davvero per l'attestato di stima al nostro quotidiano. Saluto Bartolomeo Notarangelo, spero solo che questa mobilitazione non si riduca attraverso solo da Facebook ma abbia una concretezza sociale politica, esattamente quello che dicevamo qualche giorno fa, occorreva far travalicare tutta questa mobilitazione dentro un orientamento tecnico pratico che aveva anche degli svolti politici ed è quello che si è prodotto senza dubbio in queste giornate, però tutto è partito, questo va detto, dalla mobilitazione anche emotiva, ma io l'ho visto in casa, ho visto mia figlia andare tutti i giorni in chiesa a accendere a sette anni una candela per Charlie, ho visto Silvia, mia moglie, piangere e non dormire la notte, quindi è chiaro, è chiaro. Gianna mi chiede Mario, do you know Emanuele, the little Italian boy, he was what Charlie has and he's nine years old, he's a painter, yes, yes Gianna, he's a painter, he's from Tuscany, here in Italy. Emanuele, nine years old, nove anni della stessa malattia di Charlie, oggi con le sue difficoltà vive, ma he's a painter, si fa il pittore, comunica con i genitori attraverso i colori, attraverso i quadri che riesce a disegnare. Italy, I think Italy is teaching the world in these days, dear Gianna, we are explaining to the world what is life, what is a pro-life culture against death culture. questo è quello che stiamo facendo, spiegare attraverso la testimonianza vivente dei portatori della cultura della vita, quello che è in contrasto ai portatori della cultura di morte. questo è il lavoro che dobbiamo svolgere, evidentemente, e che svolgeremo, che continueremo a svolgere contro un mondo alla Maria Antonietta Farina Coscioni, che dice che è un atto d'egoismo dei genitori tenere in vita, tenere in vita Charlie. È questo davvero qualcosa di incredibilmente intolerabile. Gianna Jessen mi dice, yes Mario, bravissimo. È come quando la maestra mi scrive alle elementari bravissimo sul quaderno. Per me prendere un voto così alto da Gianna Jessen è un motivo di orgoglio. I'm very proud, dear Gianna, to get this bravissimo from you, like my teacher in primary schools in Italy. They wrote bravissimo on my workbook. Thank you very much. Saluto Cristina Cecchetti, Teresa, c'è Gabriella Maiglia che fa un lavoro straordinario ad Arezzo per far conoscere il popolo della famiglia. C'è Massimo Pistoia che scrive è cambiato il vento, spira un vento di vita che spazzerà via la cultura della morte. Orgoglioso di essere italiano, dall'Italia ci sarà un rinnovamento di tutta l'Europa. Esattamente, esattamente, un rinnovamento di tutta l'Europa. Noi dobbiamo, c'è anche Luca Di Tolve, veramente un abbraccio forte a Luca, alto simbolo di una battaglia costante contro il Politically Correct e contro la violenza. Oggi è morto Paolo Villaggio, ho pubblicato una mia intervista a Paolo Villaggio, una mia video intervista a Paolo Villaggio, in cui Paolo mi diceva appunto che ormai andavamo verso una nuova dittatura in cui c'era l'assenza di libertà di pensiero. Ecco, guardate la vicenda di Luca Di Tolve e capite di cosa stiamo parlando. Dunque, un abbraccio fortissimo a Luca Di Tolve. Saluto Flaminia Longobardi che manda il suo We love you a Gianna. Great things can be done with great courage and great kindness, dice Gianna Jessen. Grandi cose possono essere fatte con molto coraggio e anche con molta gentilezza. bella questa frase di Gianna. Maria Rosa Ferraresi, dice ridai l'indirizzo a cui inviare l'email segreteria ministro chiocciolasanita.it. Anna Ruggero, dice serie straordinari, popolo da famiglia, avanti così. Saluto Silvia Avanza, saluto Emanuela Bartolini, abbiamo toccato con mano che siamo una forza, non dobbiamo abbassare la testa. Giuseppe Focone, dice Charlie, è il piccolo chicco di grano che ha inceppato il meccanismo della poterosa macchina della morte. Paolo Pasanisi Zingarello, dice ragazzi, se dovesse arrivare Charlie a Roma dobbiamo invadere l'ospedale al suo arrivo. Se arriva a Roma, prima di cosa, tranquillità per la famiglia, tranquillità per il bambino, che vada al bambino Gesù, che sia collocato nella migliore condizione possibile e poi faremo sentire tutto il nostro sostegno, tutto il nostro affetto a Charlie, alla famiglia e a coloro che saranno responsabili di questo miracolo in termini tecnico-organizzativi. Chi lo farà avrà sicuramente la nostra simpatia, il nostro rispetto e il nostro riconoscimento. Saluto Sara Deodati, Ivan Perugini, grazie a Giuseppe Brienza che sottolinea l'intervista che ho fatto a Paolo Villaggio dieci anni fa, una vita fa, diciamo così, portavo la maglia dei Florida Merlins, mi pare, per cui un saluto davvero a Rosaria Di Canio, vi chiedo ancora di fare un mi piace, fare un condividi e invitare i vostri amici alla diretta, Claudia Brignoli dice andrà negli Stati Uniti perché la cura è lì, Irene Stagliano cita Chiara Corbella, bellissima citazione, diceva che per fare grandi cose non bisogna essere coraggiosi ma avere fede, la fede infonde coraggio. Stefano Bataloni, che mi fa piacere leggere, scrive che la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo, dagli e Charlie, bellissimo, bravo Stefano. Mauro Turrini dice grazie per tutto, non dimentichiamo di pregare, Charlie ancora in quell'ospedale della morte, questo è chiaro, la nostra preghiera continua anche perché, lo ripeto, fra due ore potrebbero ucciderlo, però diventa molto difficile per loro oggi farlo, grazie a noi. Saluto Silvia Lungone che dice Dio è grande, Stefano Sigiali dice Mario Nostro quando farai le dirette, quando capita, ad estate quando capita. Saluto Flaminia Longobardi, Gabriele Rossi, Alessandro Cocco che adesso scappa, non prima di aver fatto un condividi, di aver invitato tutti gli amici, mi raccomando a partecipare alla diretta. È arrivata anche Africa Continent News a dare attenzione a questa diretta, credo che stavolta veramente l'abbiamo fatta grossa, diciamo così, l'abbiamo fatta mondiale la diretta Facebook. Saluto Jack Folla, caro Mario tu hai un unico punto di vista, il tuo. Non è proprio così, credo di avere un punto di vista, come dire, che riesce a esprimere un'intelligenza collettiva, cioè un punto di vista che riguarda molte persone che rimanerebbero altrimenti silenti o forse poco percepite e io cerco di farle percepire, caro Jack Folla. Questo è l'obiettivo, non di un punto di vista singolo che è il mio, ma di un punto di vista da intelligenza collettiva. Ecco, questo è l'elemento che vorrei esprimere a una persona infatti intelligente come Jack Folla. Elena Di Pietro cita la Madonna di Međugorje, che dice il mio cuore immacolato trionferà, il messaggio del 2 luglio, saluto Paolo Manzoni, Dario Romo, Dario un altro amico che ha patito la sofferenza in questi giorni, Dario Loterme, saluto Nicola Fulgenzo di Liberto, se lo uccidessero adesso sarebbe un marchio di infamia. Maria Cardello dice già che Charlie sta convertendo il mondo. Corrado Fantini, speriamo che si smette, purtroppo scorrono i messaggi e me li perdo moltissimi. Giovanna Riva, pur in una situazione di dolore è già avvenuto un miracolo. Gabriele Marconi, c'è un altro che hanno censurato per evitare di dover affrontare la mobilitazione. Saluto Walter Torresin, chi crede in me dice Gesù Cristo, anche se muore vivrà. Coraggio. Saluto anche Nicola Bortone che usa una frase molto bella, un bambino disabile sta piegando l'Europa. Jack Folla risponde, Mario ti rispetto, però devi anche valutare altre cose che spesso metti da parte volutamente. Non crede che metto da parte facilmente le cose, cerco di vedere le questioni nella maniera più complessa possibile e poi di proporle evidentemente secondo un punto di vista, questo è ovvio, ma chi non lo ha, tutti hanno un loro punto di vista, io cerco in più di farmi carico di un punto di vista che è il più possibile collettivo, cioè sintesi di una serie di prese di posizione, di persone che altrimenti non avrebbero visibilità, perché cancellate dalla comunicazione mainstream e invece la comunicazione mainstream ha bisogno di queste persone. Stefano Aurelio dice che molti però pensano che sia accanimento terapeutico, lo pensano anche alcuni cattolici e sbagliano, è evidente che sbagliano perché altrimenti con questo principio staccare i respiratori a chi vive attraverso lo strumento respiratore diventerà procedura automatica e questo non lo possiamo in alcun modo accettare. Jack Folla dice che è profondamente sbagliato proporre una cultura della vita contro una cultura della morte, invece esattamente quello che è in atto, caro Jack, le politiche abortive, le politiche dell'eutanasia, le politiche di queste sentenze come quelle ignobili, le quattro sentenze che ho citato riguardanti Charlie Gard, sono cultura della morte. L'idea che in Europa dobbiamo essere sempre di meno per poterci spartire una torta con una fetta più grande per ciascuno, quello che si chiamerebbero i colti neomaltusianesimo, è qualcosa che va combattuto. Uccidere i bambini in grembo alle madri perché magari hanno la sindrome di Down, come sta succedendo in Danimarca o in Islanda, si chiama nazismo. Cioè quando tu applichi una soluzione che uccide un segmento particolare di popolazione per le sue caratteristiche proprie, semplicemente applichi i modelli del nazismo e contro il nazismo non c'è dialogo, c'è contrasto, c'è battaglia, c'è resistenza, c'è andare in montagna e combattere. Non c'è null'altro che questo. Se mi sentenziano che un bambino contro la sua volontà, contro la volontà dei propri genitori, non ha diritto a una cura. Perché? Perché lo decide un giudice in parrucca britannico della alta corte, della corte d'appello, poi della corte suprema e poi lo decide un giudice della cosiddetta corte europea dei diritti umani. Io tutto questo lo chiamo cultura della morte e contro tutto questo combatto. Ma non combatto solo, per fortuna. Fossi solo sarei matto. Jackie Folla mi dice, credi che Peppino Inglare avesse la cultura della morte della figlia. Sì, sì, anche se è una cultura completamente diversa da quella della sentenza di Charlie Gard. E Luana respirava da sola, non aveva neanche il supporto respiratorio della macchina che sta tenendo in vita Charlie Gard. Respirava da sola. È stata uccisa per disidratazione e sospendendo l'alimentazione. È stata uccisa. e non è cultura della morte questa. Non è cultura del non sapere accettare la vita che diviene. E che diviene dunque anche vecchiaia, sofferenza, impoverimento delle capacità comunicative. Eppure, come diceva bene Paola Belletti, un corpo immobile muove il mondo. Questa è la storia di Charlie Gard. E per questo è così determinante. Molti bambini muoiono nel mondo, per mille cause diverse. Ma questa è una storia emblematica. È la storia emblematica di un corpo immobile, di un innocente che non ha mai saputo parlare, che non ha mai potuto parlare, che è collegato a una macchina per poter esistere, eppure muove il mondo. Pensate davvero, che straordinaria vicenda. Paolo Voltaggio ci abbiamo fatto ragionare quella parte del mondo laico. Speriamo di averla fatta ragionare. Speriamo. Saluto Federica Lustrissimi. Saluto Giovanni Messina, Piera Giacometti, Giovanni Battista, Cecilia Maria Biancarelli, Emanuele Rubù. E noi faremo la resistenza a costo di perdere la nostra vita. Questo faremo, davvero faremo questo. Non ci credono quando diciamo questo, ma davvero faremo questo. Giovanni Fiori fa una bellissima similitudine. Charlie è come Cristo in croce. E questo è un elemento che ha a che fare nel nostro rapporto con la religione, ma sono convinto che anche dal punto di vista puramente laico, guardando a questa vicenda si riuscirà a comprendere la distinzione e lo scontro in atto tra una cultura della morte e una cultura della vita. Lo ripeto. I medici che vogliono staccare la spina, la prima sentenza dell'alta corte londinese, la seconda sentenza della corte d'appello, la terza sentenza della corte suprema e infine la sentenza della corte europea sui diritti umani, tutte univoche, tutte a determinare Charlie deve morire. E poi un coro di persone sofferenti e oranti che dice Charlie deve vivere dall'Italia, neanche da Londra. E l'Italia si è destra e ha costruito le condizioni a cui oggi miracolosamente siamo giunti. Oggi uccidere Charlie diventa un atto di sopraffazione, nonostante quattro sentenze e la decisione dei medici. nonostante quattro sentenze e la decisione dei medici. Ivana Pecora mi dice Mario sii sincero, come pensi che andrà a finire? Non lo so. Io non penso, prego. Io non penso, prego. E prego affinché Charlie sia simbolo di una battaglia che si può vincere per la vita e che sia, come Emanuele, in Toscana, un bambino che arriva ai nove anni con le sue difficoltà, le sue fatiche, la sua sofferenza, ma che riesca magari, intingendo una mano in un secchio di vernice, espandendolo su un foglio di carta a comunicare così con i suoi genitori. a otto anni da oggi, quando compirà nove anni, che ci regali un suo dipinto fatto con le mani immerse nella vernice, perché questo sarà magari il modo che avrà per comunicare. Affidiamoci al Signore, dice Simone, e noi davvero ci affidiamo. Non abbiamo altri strumenti, in tutta evidenza, ma queste sono le modalità più corrette di vivere questa vicenda e questa battaglia. Ma va, dice, Charlie ha fatto pregare il mondo intero. Giuliana Laiani dice non decidiamo noi e per questo preghiamo, per questo preghiamo. Uniti per combattere insieme la buona battaglia, come dice Paola De Marchi, vi ringrazio davvero. Jack Folla dice la vita deve essere dignitosa e quella di Charlie, Jack, è infinitamente dignitosa, infinitamente. È la dignità di un uomo che pur non avendo nulla, non avendo neanche la capacità di parola, eppure ci sta dicendo tutto. Grazie davvero amici per la diretta di stasera, se potete un mi piace, un condividi. Noi ci troviamo nei prossimi giorni sperando di poter dare buone notizie. Invitate i vostri amici a vedere questa diretta, condividetela sulle vostre pagine, credo abbiamo detto qualcosa di fondamentale, lo ripetiamo in conclusione. Chiediamo al governo italiano un intervento di concerto con le autorità vaticane che riesca a condurre fuori dall'Hormond Hospital di Londra il corpo di Charlie e lo conduca a far vita e ad essere vita o al Gesù che sia reso disponibile o negli Stati Uniti, secondo la disponibilità dell'amministrazione Trump. Paul Freeman dice Charlie rende giustizia alla sapienza. Un abbraccio a tutti voi, davvero è stata una notte importante, la conservo con grande gioia nel mio cuore. Un abbraccio a tutti e a ciascuno, ci si vede qui nei prossimi giorni. Da Maria Di Novi, buona serata.